Un empresario E questo è quello che voglio perdurre È una scommessa sul futuro Noi non scommettiamo mai La sua azienda È morta Siccome ci sono arrivate delle voci che... Quali voce? Per esempio che non c'è più liquidità per gli stipendi Dovete decidere da che parte stare Volete piantare uno sopra? Fate pure Di una vita che parece desbarrancare Sono sempre lo stesso No Te mi manchi In il ciclo Il nuovo cinema italiano Il industrial Il film più recentemente di Giuliano Mondaldo Il industrial Il miércoles 4 In Europa, Europa Il primer cinema